Non so fa niente Benvenuti tutti quanti ragazzi Siamo sul primo episodio di Slender 3 Arrival Un videogioco molto vecchio lo so Però per il Playstation 5 l'ho scaricato adesso Io non ci ho mai giocato quindi ragazzi Prevedo che ci sarà da divertirsi Mi raccomando ragazzi un bel like di supporto e un commentino al termine del video Sta partendo l'inizio del gioco Siamo qua con i titoli Che appaiono e scompaiono C'è una musica che mette abbastanza ansia Al mio interno sembra un po' più buio ecco Perfetto allora è tempo di tornare a casa Eccolo lì ragazzi siamo già fottuti Oh questa qua è in vendita Quasi quasi me la compro non è male C'è questa bellissima altalena Vedo una macchina però è avvitata quindi la casa Ok ragazzi la porta è già aperta Me la sono chiusa così eh Dai andiamo nei giochi Non c'ho la torcia Ah un bigliettino Tre me ne sono saltati due Oh era una semplice letterina Attenzione ragazzi C'era della luce lì Ecco Eh merda C'è per terra qualcosa Ma lì è aperto Ok siamo dentro raga E anche questa porta aperta Sono tutte aperte Ci abbiamo la radio ragazzi Merda Mamma mia Katie Katie Non è il momento dei Katie Katie ragazzi Qui c'è un telefonino Merda Facciamo un casino Madonna ragazzi Pasta e fagioli Tavola imbandita Uh ragazzi la torcia la torcia la torcia Tanta roba Adesso direi che Uh questi non l'avevo visti ragazzi E' quello lì Slenderman con tutti questi bei pini Ma merda ma si può ragazzi che uno va in non lo so in campagna e poi finisce qui dentro Qua Ho trovato qualcosa sulla schivania Ho preso delle chiavi Eh siamo vicini quindi la stanza qua dietro è quella lì Che ci sono i vetri rotti Questa qua per giunta Apriamo Oh ecco qui la stanza che dicevo Mamma mia Ah rispecchiamo altra roba Cosa dice qua raga Vedere qua Tutto è wood Ragazzi quello è aperto Ecco ragazzi Merda Siamo pronti ragazzi che sicuramente appare qualcosa adesso Ok Tutto calmo comunque si vede anche tutto bene tranquillamente Non puoi farmi spaventare ora dai Scendiamo le luci Cosa andiamo in un sito archeologo? Cos'è? C'è qualcosa là ragazzi Ma non vedo Slenderman Cioè dov'è? L'ho visto ragazzi Eccolo lì dove era È lì che mi fissa Mazza che braccia lunghe che ha Li arrivano alle ginocchia Capitano Lei che ci guarda dall'alto Ecco qua Charlie Madison Junior Ha visto Charlie? No eh Lei rimane lì? Rimane lì Mamma mia Sono ancora all'interno del prologo Quindi ragazzi cioè Dovrebbe far capire un po' tutto come è che sta nascendo e si evolverà la storia Però Qua c'è un altro generatore E c'è una casa abbandonata Succedendo Ragazzi Sento piangere Cos'è? Guardalo qua ragazzi il bambino Scusa ma vendete Perché ho visto che di là stanno costruendo Sono passato di qua giusto per sapere Perché io sono un agente immobiliare E faccio delle valutazioni gratuite Non ho capito? Sta piangendo C'è delle labbra nere Ragazzi è uno scandalo Questa cosa Questa cosa fa niente Crybaby Trofeo guadagnato ragazzi Crybaby Trofeo guadagnato Ma che era? Ma ci sono in vendita i Crybaby eh Crybaby What's wrong? What is this place? What did this happen to what you say? Questa qua è una lettera di Charlie Dice che in poche parole Non so cosa è successo Daian Sempre di più che ha a che fare con la storia che è avvenuta qua in sostanza Però ragazzi Io me ne terrei alla larga dopo quello che ho visto Va bene così Ti ringrazio Crybaby Siamo tutti felici di Crybaby Uh Cos'era ragazzi? Un poster Con dei pullover Belli colorati Qui possiamo uscire Basta? Crybaby? Oh C'è un biglietto Quello lì è Slenderman E l'altro è Charlie E c'è anche la chiesa Dobbiamo andare in chiesa ragazzi Charlie Charlie è il bambino scomparso Charlie Junior Mi sembra no? Guardatelo dov'è Laggiù come un fesso È più alto di un pino È più alto di un pino questo qua ragazzi È proprio più alto di un pino Guardatelo lì Ma dai Un'altra struttura Oxide Park Vedo bene? Sì sì Oxide Park raga Qui c'è la porta Granderman Abbiamo solo visto Lì in collina C'è niente ragazzi C'è Uh Finmi Lauren Un messaggio Ho lasciato A noi Davvero sì Musica 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 Uso uscire ragazzi Mi ho tigliettino Help me Need CR Don't let me in Ok ragazzi Quindi CR Conosce come mettere fine a questa cosa Dobbiamo trovare CR O siamo noi CR Terminato il primo episodio di Slender Tearival Non c'è stato chissà che cosa Io pensavo già di un assaggino di Slender Invece non ce l'abbiamo assaggiato Abbiamo assaggiato il bambino che ci ha aggredito Fetentemente perché puzzava Spero che il video vi sia piaciuto E come sempre ci vediamo alla prossima